Si stanno concentrando sullo stato di salute dell'albero le indagini sulla morte delle due sorelline, Yanat e Malak, 13 e 3 anni, schiacciate dal pioppo caduto sulla loro tenda di notte al camping di Marina di Massa, dove stavano trascorrendo una vacanza con i genitori. L'arbusto è stato sradicato da un vento di scirocco che, secondo i meteorologi, soffiava a 65 km orari. Troppo pochi per parlare di una tromba d'aria. L'ipotesi dunque è che le radici dell'albero killer fossero già compromesse e che possa essere stata una malattia alla pianta a portare alla tragica fatalità che ha sconvolto l'intera città poana ed è per questo che il sindaco Persiani ha dichiarato il lutto cittadino. Siamo tutti vicini e pensiamo a queste due povere ragazze, non soltanto quello che hanno passato ma insomma la loro giovane vita stroncata in maniera così sfortunata in un momento in cui magari stavano trascorrendo anche un momento lieto assieme alla famiglia, una famiglia magari che aveva già le proprie preoccupazioni che cercava in questa settimana da noi a maniera di massa di trascorre un momento di serenità. Tutto questo è veramente agghiacciante e ha turbato la serenità agli animi di tutti in maniera credo veramente sincera e sentita. Sarà comunque la perizia di un agronomo a stabilire le circostanze del crollo. Fatto sta che altri alberi sarebbero caduti nelle vicinanze nella stessa notte tra sabato e domenica. Secondo alcuni testimoni la famiglia avrebbe dovuto lasciare il campeggio sabato pomeriggio ma i genitori invece avrebbero deciso di rinviare la partenza proprio per non mettersi in viaggio con il maltempo di cui era stata diffusa l'allerta. E così la famiglia si è fermata un'altra notte andando incontro ad un triste destino.